Ciao a tutti, ciao vlog, oggi è una giornata molto lunga, ieri sera abbiamo suonato con gli Strings O'Garden, oggi abbiamo un pranzo a tema pasquale con un sacco di bimbi, nel pomeriggio suoniamo Castel Maggiore con gli Strings O'Garden per un'altra cosa sempre di molto solidarietà e la sera siamo accesennati con il caffè degli artisti, domani a pranzo con gli Strings per Porcelli d'Autore al Parco Nord e la sera siamo per il BIN Italy, per Teresiana, insomma giornate molto molto intense, come potete vedere ci sono Easter Bunny in giro e oggi li prendo al telefono perché ho fatto fuori un obiettivo, lo uso, ho solo quello che stringe troppo quindi vado così, andiamo Ci siamo, un sacco di bimbi eccoci qua in macchina verso il Cesenatico, abbiamo fatto la seconda gig con gli Strings O'Garden io sono un po' cotto, adesso fatti guida alla Fra, io mi riposo, andiamo al mare, andiamo al mare, oh yeah che fa dell'artista c'è l'altro, c'è l'altro dove ci siamo, c'è l'altro poi ci siamo, c'è l'altro s'è il bimbi, c'è l'altro e se lo farò, io sono un po' cotto ma ci siamo, non sono gli ossi e se voletevi a fare l'altro non non mi sa tutto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti